E' stata inaugurata la nuova sede del coordinamento delle opere, nuovo centro di incontro e punto di riferimento per le associazioni e le imprese che compongono lo stesso coordinamento. Ospiterà le attività sociali tra cui quelle svolte da Oltre il Muro Onlus. Nasce il coordinamento delle opere, una sede che serve ad ospitare tutte le attività delle opere del coordinamento. E' un momento importante per noi perché a me personalmente offre la possibilità di continuare il percorso di formazione con i ragazzi in queste strutture certamente che sono fuori dalle mura parrocchiali. Perché la natura del coordinamento è quella di collocarsi su un territorio cittadino e non esclusivamente parrocchiale. Fuori dalle mura di una parrocchia certamente potrò maggiormente agire con i ragazzi e con loro formare la generazione del futuro. Questo è per me un grande segno di responsabilità che la Chiesa mi affida e che consapevolmente io assumo. E auspico che tutti i ragazzi della nostra città di Gela, gli amici dei nostri ragazzi e tutte le famiglie che ogni lunedì si incontreranno possano vedere in questa sede un punto di incontro e di coinvolgimento. E' una gioia per me, una gioia per il Vescovo, una gioia per la Chiesa ma soprattutto penso che sia una punta di orgoglio per la città di Gela. Questa inaugurazione rappresenta il primo vero passo delle attività del coordinamento delle opere. E' la sede operativa del coordinamento ma delle stesse associazioni che lo compongono. Si tratta di un ambiente dove andremo a sviluppare progetti di formazione, progetti sociali, progetti culturali. La nostra città richiede ambienti di questo genere. Avere una sede aperta 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana per far crescere i nostri ragazzi più giovani ma anche le famiglie che ci aiutano e ci supportano quotidianamente è un traguardo ma è anche un punto di inizio per quanto riguarda i progetti futuri del coordinamento stesso. Credo che siano di quelle categorie che dovremmo lentamente ma progressivamente assimilare e maturare. Perché se noi non puntiamo al coordinamento qui, come abbiamo sentito, si tratta di coordinamento di opere. Allora vorrei anche evidenziare l'aspetto plurale. Quindi non solo un coordinamento ma di opere. Quindi significa che ci sono dentro tante attività che tenteranno alla sinergia e questo evidentemente permetterà un arricchimento direi notevole.